Caro Chico Blegini, è l'anno del mondiale? Beh, finalmente, finalmente. Parliamo di questo mondiale da quando è finita praticamente l'Olimpiade di Rio. Quindi c'è grande attesa, c'è grande voglia di arrivarci bene. Mi viene da dire di godercelo, ma per godercelo dobbiamo costruire delle cose perché si sa che divertirsi, goderselo, emozionarsi passano dei risultati. Quindi bisognerà fare un bel risultato e ci stiamo preparando e stiamo programmando il tutto per cercare di arrivarci con quell'obiettivo lì. Si rende conto che Chico Blegini, dalle sue origini, è iniziato ad avvicinarsi alla palla a volo e adesso è il Cittadale Nazionale, a pieno titolo. Sì, ormai da un po' di tempo, quindi insomma me ne sono reso conto da un po', ma è una cosa che io vivo con un grande senso di responsabilità, un grande senso di privilegio, ma con naturalezza, nel senso che noi facciamo un mestiere dove bisogna che pensiamo a oggi. Oggi è l'allenamento di oggi, è l'allenamento di domani, abbiamo una progettualità generale, però non abbiamo spazio e non è nemmeno funzionale stare a godere della propria posizione o a pensare anche oggi al velo che sarà giocare un mondiale, c'è da fare del lavoro passo passo e quello è quello su cui ci dobbiamo concentrare. Adesso parte la National League, farai ruotare 21 giocatori, le hai scelte, da lì arriveranno i 14, ma prima la National League perché bisognerà trovare comunque equilibri nei weekend dove cambieranno, dove cambieranno la squadra parecchie volte. Sì, l'ho detto già in presentazione di questa manifestazione, questa è una manifestazione molto particolare, dove le scelte, dico purtroppo perché così è, sono un po' di natura extra tecnica perché abbiamo tutta una serie di regolamenti da rispettare tassativamente, dove questo bisogna farlo succedere e farlo stare, come si dice, all'interno di una rotazione che è fondamentale perché alcuni giocatori hanno bisogno assoluto di riposo ma da una parte, ma dall'altra ci devono essere per tutta una serie di regole. Quindi ho fatto delle scelte cercando di dare, come si dice, un colpo al cerchio, un colpo alla botte e di ragionare invece su altri che hanno bisogno di meno riposo per fare in modo che questa manifestazione per loro rappresenti un challenge, una sfida, una possibilità di giocarsi un posto per il campionato del mondo nel nostro paese che credo sia un'opportunità unica nella vita di uno sportivo. Primo weekend, subito si parte fortissimo perché ci sarà la Germania, l'argento agli europei, ci sarà la Serbia, bronzo agli europei, e ci sarà il Brasile che vi ha battuto a Rio e ci saranno Zai, Zai e Guantonelli nei primi due weekend. Assolutamente sì, comincia con la manetta del gas aperta, è una manifestazione che non so gli altri esattamente come siano weekend per weekend, non solo le squadre che i giocatori nella loro rotazione, se operano la rotazione che i giocatori avranno, sicuramente avranno qualche piccolo vantaggio in più in termini di lavoro insieme i giocatori che ci saranno, perché nei primi due weekend noi abbiamo molti dei giocatori che hanno partecipato alla Final Four di Champions League di qualche giorno fa e quindi questo chiaramente ci porterà a andare in campo con dei giocatori che da una parte hanno una condizione migliore perché continuano l'attività e soprattutto riducono i rischi degli infortuni con un'attività che non si interrompe per poi riprendere, dall'altra chiaramente non hanno avuto il tempo nemmeno di fare degli allenamenti insieme per andare in campo, quindi utilizzeremo le partite, sono grandi giocatori con l'individualità e la disponibilità di mettersi al servizio della squadra e anche un po' di voglia di arrangiarsi in campo con le qualità che hanno perché tutto non può funzionare andremo a giocare queste partite molto difficili, gli altri probabilmente qualche allenamentino insieme l'avranno fatto ma non importa, questa è la natura di questa Volleyball Nation League e lo sappiamo, ce lo siamo detti, lo ripeteremo e andremo ad affrontare queste partite al di là di tutto anche con l'idea di costruire un gruppo che funzioni, che si adatti, che sappia superare le difficoltà, questa è una di quelle e andiamo. In una battuta secca, la forza di quest'Italia sarà? Ma io credo che sarà più di una la forza di quest'Italia, nel senso che quest'Italia è composta da giocatori che hanno una forte motivazione, una forte voglia di esserci, la consapevolezza di avere la qualità per poter fare qualcosa di grande e quindi devono perfezionarla in termini tecnici, in termini fisici per metterla a disposizione del proprio risultato e questo faremo. I tifosi italiani aspettano il grande momento, vi seguiranno per tutta l'estate, vi seguiremo per tutta l'estate, ma il 9 settembre a partire da quel momento partirà il Mondiale Italiano. Cosa dici ai tifosi che aspettano e vogliono tanto perché quel Mondiale non arriva da tantissimo tempo? È difficile, io credo che sia difficile aggiungere qualcosa all'affetto che già di per sé i tifosi ci danno. Sarà bello esserci, dico questo, cercate di esserci perché credo che sarà una bella emozione per noi che giocheremo, per voi che vedrete le nostre partite e quindi esserci come è, come dicevo prima, una cosa importante, fare un Mondiale in casa è veramente un'emozione che va al di là dell'importanza della manifestazione in sé, un po' come partecipare a un'Olimpiade, esserci, vedere dal vivo queste partite e vivere queste emozioni insieme a noi credo che sarà qualcosa di unico. Inizia così questa puntata speciale di Oltre la Rete, l'ultima puntata di questa stagione, questa importantissima stagione maschile e femminile ma dedicata alle nazionali perché insomma le nazionali, la femminile è già iniziato, la nazionale e maschile inizierà proprio in questo weekend ma intanto arriva da una doppia amichevole, una vittoria, l'ultima, una sconfitta proprio nell'esordio, ne parleremo di tutto questo con Andrea Lucchetta perché insomma, Andrea questa è la puntata azzurra, no? Ciao Andrea! Assolutamente sì, ciao Maurizio, cari amici e telespettatori, Chico Blenzini ha chiuso questa bellissima intervista da parte di Maurizio Colantoni in riva al mare, in riva ovviamente a quel mare che darà la possibilità di continuare a dare emozioni importanti e parlato di emozioni Maurizio e ti posso garantire che la federazione della pallavolo e il raceport hanno dato a voi l'opportunità di capire come abbiamo unito con il linguaggio della pallavolo la Calabria alla Sicilia, due partite in una più bella dell'altra, abbiamo ovviamente perso nella prima partita ma non perso l'opportunità di fare promozione alla pallavolo e dato poi anche a Maurizio l'opportunità ai ragazzi di Chico Blenzini di rispondere sul campo davanti a un palacatagna esaurito con un tifo pazzesco Tu anticipi tutti i temi ma facciamoli godere alle persone perché ci sono due semplici Esatto, un bel preambolo, facciamo una cosa, partiamo con la prima clip, è stata la sconfitta dell'Italia però insomma erano veramente i primi passi di questa nazionale con alcuni giocatori e altri campioni che arriveranno Vediamo Grazie a tutti 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 Tu dici che lui potrebbe essere uno dei papabili dei quattro che porterà ai mondiali, cioè se il lavoro è in un certo modo? Allora, guarda, l'abbiamo proprio detto durante le telecroniche, ovviamente Chico Belenzini ha una grandissima tavolata su cui poter iniziare pian pianino a determinare quelli che saranno i pesi delle portate. È una portata che ci darà la possibilità di arrivare nel podio, si spera, nel gradino più alto e quindi ci sono due considerazioni. È partito Chico dando subito parodi, la titolarità per cercare di testarlo, ha fatto un po' fatica anche Simone a trovare il ritmo nella capacità proprio di essere bravo a ricevere e dare palloni importanti a Giannelli. Nella seconda partita che adesso poi vedremo ha provato proprio Maurizio a cambiare quell'ingrediente che poi dopo andremo poi a svalare. Senti facciamo una cosa Andrea, proprio perché tu hai introdotto un tema importantissimo, prima sentirei Giannelli, poi vediamo la clip e poi parliamo del secondo palleggiatore che anche lui potrebbe ricavarsi un po' su, parliamo di Michele Baranovic. Vediamo, sentiamo Simone Giannelli prima. Ancora un ragazzino ma con l'esperienza di un veterano, ti senti di prendere per mano questa nazionale nell'anno più importante? Hai detto bene, sì. Sono qua da, adesso si può dire, un po' di anni, però ho sempre 21 anni, quindi sono sempre piccolo, però ho tanta voglia di affrontare questa estate, questa bellissima estate, ho tanta voglia di dar tutto a me stesso per la mia nazionale, per l'Italia. Da Rio agli europei, dalla vittoria in qualche modo alla sofferenza, come si rinasce? Eh, nello sport è così, insomma, si prendono schiaffi, si danno, non si può sempre vincere e non si perde sempre, quindi bisogna cercare di trovare un equilibrio giusto, cercare di imparare dalle sconfitte toste, come sono state quelle dell'estate scorsa, come l'estate europeo, e anche non volare troppo quando si raggiungono traguardi importanti. La nazionale, la maglia azzurra, guidare tanti campioni, ma ti fermi mai e dici, ho in mano tutto questo? Una volta ti avrei detto, no, penso solo a giocare a pallavolo, adesso ti dico sì, ogni tanto succede che ti fermi un attimo, perché insomma, la spensieratezza sì, però comunque c'è anche un rendersi conto ed essere consapevoli di ciò che si sta facendo e ciò che si sta vivendo. Giocare per la propria nazionale, non riuscire a giocare con tanti campioni è un onore. Sarà il tuo primo mondiale in Italia, che dice Simone Giannelli? È bellissimo, sono veramente felicissimo di poterlo giocare, darò tutto a me stesso e speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni. Saranno mesi di duro lavoro, una squadra che cambierà tantissimo, come si troverà il giusto equilibrio? Secondo me il fatto che ci siano molti giocatori che possono dare una mano alla nazionale è un valore aggiunto. Sicuramente hai a disposizione tanti giocatori di alto livello che possono dare una mano in qualsiasi momento, quindi c'è da allenarsi tutti quanti insieme e da lavorare tutti quanti per uno stesso obiettivo senza pensare all'individualismo o cose del genere. L'importante è la squadra, quindi questo penso che lo pensano tutti quanti e quindi andremo avanti con questa ottica qui. Non si parla di singoli, però rispetto agli ultimi europei torneranno Smanico Antorena e Ivan Zeiss, qualcosina è? Quello sicuramente non sono io che devo dirlo, sono dei giocatori fantastici che possono cambiare le partite e quindi siamo molto contenti di poterli riabbracciare, però come ho detto prima è un valore aggiunto anche quello, però comunque siamo tutti insieme e tutti insieme dobbiamo lavorare come una squadra per poter raggiungere traguardi importanti. Il senso del gruppo, quello che ha in testa Simone Giannelli, che tra l'altro avete visto nell'ultima immagine è un ragazzo che il pomeriggio invece di riposarsi si mette a studiare perché si vuole laureare, quindi insomma per farvi capire Giannelli che potrebbe essere veramente uno dei giocatori guida di questa nazionale pensando come diceva prima a solo 21 anni, Andrea. Assolutamente, ma non è un caso che sia già un leader, un leader all'interno di quel meccanismo che ha cercato di ricreare la forza del gruppo e l'amicizia nell'anno scorso, un anno molto trevagliato e deve essere molto bravo Chico Blengini a ritrovare immediatamente con un giorno un allenamento in Serbia già quel clima importante perché se avete letto proprio tra le righe Simone Giannelli che cosa dice? Dice un singolo non vince una partita, a maggior ragione Maurizio ritorniamo proprio su quel concetto molto importante in cui la spiritualità ovviamente del gruppo farà la differenza. Tanti giocatori che ovviamente Chico Blengini avrà, ritorniamo su Parodi, Parodi è uno, intanto lo vediamo proprio adesso in una pipe, è un giocatore che probabilmente nella seconda partita è stato proprio utilizzato per farlo entrare da freddo, per cercare di capire quali saranno le opportunità per dare palloni importanti su Giannelli e Giannelli secondo me, come poi sta bilanciando che mi chiediamo di tema, che apre poi la seconda clip, avrà probabilmente anche l'opportunità di gestire due giovani palleggiatori con spirito e sbertoli e l'esperienza di Michele Baranovi. Esatto, allora andiamo sulla seconda clip perché l'Italia poi a Catania davanti a un palazzetto star cremito, 5 mila persone, ha vinto 3 a 0, ha vinto in maniera anche molto lucida, Giannelli Lorenzo Blengini, detto Chico, ha cambiato tanto e ha fatto vedere belle cose, clip. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'esultanza di Giannelli Lorenzo Blengini ma ovviamente la vittoria con l'Australia, non tanto per l'Australia ma perché arrivavamo da quel risultato, c'era bisogno di una vittoria per arrivare proprio al weekend serbo dove Germania, Brasile e Serbia appunto sono le avversarie con una squadra tutta quanta rivista ma ne parleremo tra poco perché Andrea noi abbiamo tante voci da sentire. Io farei subito così, visto che hai parlato l'ultima cosetta di Michele Baranovic, andiamolo a sentire perché io non ho mai visto un ragazzo così tanto emozionato come lui che insomma di anni di esperienza le ha fatti sia in nazionale che in campionato, sentiamolo. Ma sì dai, al di là del valore che possono avere queste amichevoli, era bello vincere oggi qui perché il palazzetto è meraviglioso e quindi è andata bene dai. Poi per quanto riguarda il posto vediamo, mi godo la giornata, tutti i momenti insieme e via. Provare a riconquistare l'azzurro nell'anno del mondiale mi sembra una grande cosa per Michele Baranovic che è uno dei migliori palleggiatori italiani. Sì ma giocarsi il posto non ci voglio pensare, ho già detto qualche giorno fa quando mi ha richiamato Chico, pianto, non me ne vergogna dirlo perché è stata un'emozione bellissima, mi mancava questo ambiente, questa maglia, sono settimo cedo e quindi voglio dedicare questo momento mia moglie e mia figlia perché mi danno tanta forza e quindi è per loro. È un bel gruppo, al di là di chi poi andrà al mondiale, c'è una National League da affrontare, tanti weekend importanti, mi sembra dallo sguardo che sia un bel gruppo questo qua. Ma sì, ci divertiamo come i matti dai, è bello bello, c'è una bella aria, una bella voglia di lavorare, di migliorarsi, quindi è chiaro che questo gruppo cambierà tanto durante questo torneo, come ha detto Chico, però c'è l'interesse comune di far bene e vincere, quindi speriamo di continuare su questa strada. Lorenzo Blengini, come me lo descrivi? Come ti è sembrato come CT? Ma non so, è ancora troppo presto, sono due settimane, abbiamo parlato molto, mi ha chiesto determinate cose, spero di poterle fare nel miglior modo possibile. E di poter essere di aiuto alla squadra. Michele Baranovic è stato sempre considerato un grande palleggiatore, ma anche con un carattere superante. Come è cambiato oggi Michele? È cambiato attraverso un percorso difficile, però sono contento di averlo fatto, sono davvero felice, felicissimo e lo devo alla mia famiglia. Cos'è per te la maglia azzurra? Tutto, tutto. È vita, è bello, è gioia. Mi alzo ogni mattina presto con la voglia di passare la giornata ad allenarmi con i compagni, era da un pezzo che non mi capitava, quindi sono davvero al settimo cielo. Questa intervista di Michele Baranovic è veramente interessante, perché tocca due o tre punti dal pianto all'umiltà di un ragazzo che ha perso la nazionale, adesso l'ha ritrovata, la voglia di fare bene. Andrea, insomma, è un altro Michele Baranovic, perché insomma il caratterino ce l'ha sempre avuto, ma fa anche bene avere un caratterino a volte, no? Beh sì, direi di sì. Ovviamente i capelli bianchi in testa danno la possibilità ovviamente di essere un pochino più riflessivo e di capire e comprendere come l'importante è il bene della squadra. Vi faccio un piccolo collegamento, Ivan Zaitsev dall'anno scorso è cambiato. Totalmente. L'esperienza dell'anno scorso comunque è rientrato all'interno con la Supercoppa di Perugia già con un atteggiamento diverso, con un atteggiamento da uomo a squadra che pian pianino si è messo e si è sacrificato, essendo non più la star l'interno del Sinsafticano a Perugia, che aveva comunque in Bagno Matanasievic, il Faro Traente, il Luciano Dececo, in tanti altri giocatori, ma si è messo a servizio della squadra. E mi ricollego proprio alle parole di Simone Giannelli con Pippo Lanza e poi anche all'ingresso di Osmani Guantorena. Quindi questi giocatori alla fin fine possono essere esuberanti, ma l'importante è di ritrovare concretezza, tranquillità, stabilità e spirito, non ovviamente il pareggiatore, perché se no parliamo anche di sbertoli, ma spirito di gruppo. Ed è questa la cosa che dovrà cercare di cementare Chico Blengini molto velocemente. Andrea, andiamo avanti perché abbiamo tantissimi da sentire. Io a questo punto voglio sentire i Parodi di Parodi. Sentiamo Parodi cosa? Perché l'emozione c'è anche di Simone. Questo è Simone Parodi che torna in nazionale, torna alla tua altezza, perché deve avere una grande altezza per trovare il posto in nazionale al mondiale. Sì, assolutamente. Sono dei ragazzi molto giovani e molto molto interessanti, quindi bisogna... devo essere al 100%, però siamo sulla buona strada, perché sto bene, sono un po' stanco adesso, ma è normale. Era più di 20 giorni che ero fermo e ho fatto anche una buona partita, quindi sono contento del cammino che stiamo facendo. Sei io che la squadra. L'emozione comunque la tua di essere ritornata è quella veramente dei primi tempi, se non di più. No, guarda, io ho rilasciato un'intervista appunto che era emozionata come se fosse la prima volta. Non è una frase fatta, ma è davvero così, perché comunque sono quattro anni che manco dalla maglia azzurra e l'aspettavo un pochino, da qualche annetto che l'aspettavo e adesso devo ringraziare anche Chico che mi sta dando fiducia, quindi spero di ripagarlo. È un'Italia che soffre tanto in eccezione, quindi Simone Parodi ci vuole tanto, no? Ma io in teoria sono un ricettore, le battute sono molto molto difficili, perché devo dire che in questi ultimi tempi anche le battute flotte sono di un livello veramente alto, si sta lavorando molto appunto anche noi come altre squadre per avere una battuta flotte di alto livello. Le battute forti sappiamo che sono delle bombe e quindi cerchiamo di lavorare al massimo. Io sono qua anche per questo e spero di dare il mio contributo. Parte la National League dal 25, subito grandi match, la prima sarà la Germania, poi il Brasile e poi la Serbia, test già pesantissimi per voi. Eh sì, guarda, sono delle squadre molto molto forti, di primissimo livello, quindi affronteremo subito un livello molto alto. Noi abbiamo fatto pochi allenamenti, abbiamo fatto questi erano i primi due amichevoli e speriamo davvero in questa settimana di lucidare l'armatura, arrivare là al meglio. Nessun allenato però sarà una squadra tosta perché oltre a te ti tornerà Zai, Zosmanio Antorena, Giannelli, veramente i numeri ci sono ma è chiaro pochi allenamenti. No, guarda, io adesso parlavo per me perché comunque io e Baranovic forse siamo quelli che siamo stati un po' più fermi perché siamo usciti un pochino prima dal campionato e i nomi che hai detto tu, Ivan, Osmani, che arrivano, hanno finito da poco, quindi penso siano in fanta forma come si dice, quindi speriamo davvero che tirino le bombe a mano. Questa è Simone Barodi, la voglia di Simone Barodi, vediamo subito quali sono i 21 della National League perché Chico Blengini, proprio in previsione anche del periodo di lavoro che sarà stato fatto ad agosto e i 14 che poi dovrà chiamare, vuol vedere un po' tutti. I palleggiatori Giannelli, Baranovic e Spirito, Cettali, Candellaro, Mazzone, Cester, Diamantini che ha fatto il suo esordio proprio l'altro giorno e Simo Ranzani che torna in nazionale. posti quattro, tanti, Randazzo, Parodi, Osmani, Vantorena, Lanza, Maruotti, Antonov, Zaizev come opposto, Giulio Sabbi come opposto, Gabriele Nelli come opposto e Neri Argenta come opposti, Liberi, Rossini, Balaso e Colaci. Andrea, io prima di farti intervenire andrò a sentire prima Nelli perché Nelli veramente potrebbe trovare un posto, tu penso che ce l'hai in testa questa cosa. Sentiamo Gabriele Nelli e poi ne parliamo. Nell'anno più importante verso il mondiale in Italia, Gabriele Nelli ha la ricerca di un posto da titolare. Sono qua e sono contento di esserci, cerco di procurarmi il posto da titolare, a giocare quindi darò il massimo e il lavoro in palestra sicuramente ripagherà tutto quello che arriverà. Partiremo subito a bomba, vogliamo fare bene a partire subito da questa National League quindi siamo un gruppo nuovo, vogliamo crescere, vogliamo lavorare bene e cercheremo di dare il massimo. Mi aspetto di vedere comunque una nazionale giovane e forte e sicuramente con tanti obiettivi per quest'estate, vogliamo crescere, siamo un gruppo nuovo, tanti giovani e vogliamo sicuramente crescere e partire subito col piede giusto. Tra i palleggiatori c'è un certo Simone Giannelli che conosci bene. Sì, ho giocato insieme a lui qualche anno a Trento, quindi sicuramente affietamento come c'era a Trento, qua ci sarà ancora di più per fare bene sia io che lui, quindi cercheremo di guidare al meglio questa nazionale. Questo è Gabriele Nelli, grande voglia di trovarsi un posto, ragazzo interessante, tornare a Trento, giocherà proprio con Simone Giannelli. Quante chance ha secondo te? Cioè nella testa di Blengini porti un giovane vicino a Ivan Zeiss che tra l'altro potrebbe ricoprire anche altri ruoli? Oppure pensi più a un Giulio Sabbi ritrovato in qualche modo visto che Luca Vettori non c'è? Allora in maniera abbastanza cinica ti dirò, nella morfologia di un'Italia che deve comunque giocare al meglio un mondiale e soprattutto avere anche l'opportunità di pensare a Tokyo 2020, mi porterei Nelli per due aspetti. Il primo è un giocatore che sa già come risolvere tutta una serie di problematiche sulla palla dietro di Giannelli e all'occorrenza laddove ovviamente Pipolanza dovesse avere qualche tipo di difficoltà, al di là di un posto 4 di riferimento c'è anche l'opportunità di spostare Ivan Zeissev come secondo schiacciatore di fianco all'opposto per dare l'opportunità di migliorare in ricezione. Infatti Ivan dopo due stagioni da posto 4 è una certezza in ricezione difesa, una certezza in battuta e per cui direi che potrebbe essere utilizzato in questo modo. Poi da valutare tra Oleg e Antonov che ha fatto una partita strepitosa in quel di Catania, molto bene in attacco, poi ogni tanto perde la bussola, si disattiva nella fase di ricezione. Allora, visto che stai dicendo questo io parlo, torno a dire quello che avevi detto all'inizio Gigi Randazzo ha fatto una bella parola, tra l'altro intorno a casa sua, lo ascoltiamo perché lui un posto se lo vorrebbe veramente prendere verso il mondiale. Vediamo un po'. Adesso abbiamo questa National League che per me è molto importante, anche per farmi vedere agli occhi del tecnico, per cercare di giocare il più possibile e fare bene ovviamente. Poi si penserà al mondiale, però ognuno secondo me deve giocare le sue carte e io ne ho da dare e quindi è giusto fare bene. Nei ruoli? È il posto 4, quello che manca, la ricezione manca, te devi giocare fino in fondo perché insomma ci sono due mesi di lavoro, tre mesi di lavoro e poi si decide tutto perché solo 14 vanno a giocare dalla prima partita contro il Giappone e Roma. Sì assolutamente, io non mollo, gli altri non lo so, io sicuramente no, quindi ci sarà da lavorare duramente, abbiamo già iniziato e ci sarà da soprattutto fare bene e migliorarsi tanto. Sì ma il gruppo diciamo che la maggior parte sono quelli dell'anno scorso con molti innesti, siamo tutti ragazzi per bene, ci vogliamo bene comunque sia, stiamo bene insieme e quindi giochiamo abbastanza bene a pallavolo, quindi se riusciamo a sistemare tutto secondo me viene fuori una gran bella squadra. La prima sfida è contro la Germania, si partirà così subito con una grande squadra, poi Brasile e Serbia. Sì assolutamente, ci sarà un primo turno molto importante che con squadre veramente forti quindi dovremo giocare bene per cercare di fare più punti possibili e sicuramente cercare di vincere più partite possibili perché a queste finali ci vogliamo andare, sono importanti e quindi c'è già da dare tutto al primo turno. Insomma la grande voglia di Gigi Randazzo, siamo veramente di corsa perché abbiamo tantissime cose, questi sono i convocati invece per la Serbia, si parte con la National League, Simone Giannelli e Michele Baranovic, Diamantini esordiente contro l'Australia, Daniele Massone, Simone Anzani e Enrico Cester, parliamo di bei centrali, schiacciatori, Antono, Parodi, Randazzo, Guantorena, Gabriele Nelli e Ivan Zaizev, però chiaramente abbiamo i due opposti Nelli e Zaizev, Salvatore Rossini e Massimo Colaci, beh questa Andrea mi sembra veramente una nazionale già importante, poco allenata ma importante no? Beh sicuramente già a livello morfologico iniziamo ad avere dei pesi diversi e Chico Blengini ha iniziato a costruire quel telaio molto importante su cui poter ospitare degli altri ragazzi che arriveranno da una trasferta pazzesca due giorni penso tra Canada e Giappone quindi difficilissimo, poi la situazione anche degli innesti per poi arrivare a una finale di World League interessantissima, poi il mese, mese e mezzo su cui poter lavorare, costruire, cementare in vista dei mondiali. Io ti blocco dicendoti questo, siccome Alberto Polo che adesso vado a sentire non ci sarà, lo sentiamo e poi tu mi dici una battuta perché poi abbiamo in coda il femminile. Alberto Polo. Siamo un gruppo che è insieme da poche settimane, la scorsa partita era la prima volta che giocavamo una partita tutti insieme e abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo limato alcune situazioni, infatti abbiamo portato a casa una vittoria che alla fine sai vincere è sempre diverso che perdere, quindi perdere al tie break non ti va giù, vincere invece ti dà più soddisfazioni. Per la mia prestazione sono contento, sono molto contento di aver giocato, di essere stato in campo in due palazzetti stupendi pieni di persone che sono venuti a tifare per noi, quindi sono molto contento. Cos'è l'azzurro per Alberto Polo? Allora io ho fatto tutte le nazionali giovanili, però quando arrivi alla nazionale maggiore è qualcosa di nuovo, non puoi paragonarla a nessuna altra esperienza nella pallavolo, sono le emozioni più forti che puoi provare nella tua carriera. Fuori dalla National League dai 21, però nel gruppo azzurro, si può lavorare ancora per arrivare ai mondiali, questo lo sai? Sì, sicuramente quando arrivi qui e poi magari non sei nella lista della World League non è il momento di arrendersi e di fermarsi, anzi è il momento di spingere di più, comunque ci sarà il gruppo della Nazionale B, quindi bisognerà fare bene anche lì perché non è facile e poi per il mondiale si vedrà insomma. Emozioni di giocare davanti a un palazzetto così pieno e così caloroso, Pala Catania. Sì, io ho giocato una stagione al sud a Molfetta e ogni volta che si torna al sud è un'emozione incredibile, quando dicono che magari la pallavolo al sud non è tanto seguita non è vero, basta avere, abbiamo la dimostrazione di questi due giorni dove i palazzetti scoppiavano di persone. Un bello spot da parte di Alberto Polo, estate azzurra, dietro di me la vignetta di Daniele Lauro, l'agli deve essere proprio un lampo, ha possibilità Polo di rientrare in questo discorso anche se sta fuori dalla National League? Ritengo... Ce ne abbiamo di centrali, ce ne abbiamo di centrali. Esatto, ritengo che Diamantini probabilmente essendo stato scelto da Chico Blenzini per i 21 della New National League direi che dovrebbe essere confermato. Poi ovvio, come giustamente ricordavi, se il percorso alla fin fine darà la possibilità di farlo uscire, Chico ha braccia aperta che se lo prende. Assolutamente sì. Allora Andrea facciamo una cosa, vediamo cosa è successo nel femminile perché chiudiamo questa parentesi del maschile e poi daremo gli appuntamenti. L'Italia partita, chiaramente anche lì un'Italia molto in lavorazione, l'Italia sperimentale quella di Davide Mazzanti, però insomma tre partite, tre sconfitte, zero punti e un punto solamente perché insomma c'è stato un tie break. Come lo vedi questo avvio? Adesso sentiremo anche Mazzanti cosa dirà in previsione di questo secondo weekend in Corea. È tutto normale perché è un'Italia nuova, insomma, deve lavorare, non c'è neanche Paolo Egon, insomma, deve lavorare tanto su tanti ruoli. Ad esempio ti chiedo quello delle palleggiatrici, perché adesso c'è Cambi con Malinov. Ma guarda, è sicuramente un cantiere aperto, ed è aperto a tutte le situazioni che pian pianino inizieranno a intrecciarsi perfettamente con il rientro, come giustamente dicevi, da parte di Paolo Egon. Nel questo nuovo weekend rientra Lucia Bosetti, Anastasia Guerra ha ben figurato, molto bene Pietrini, al di là delle problematiche di ricezione che già venivano evidenziate all'interno del suo percorso della squadra giovanile. Con un buon inserimento la vediamo ora di Olivotto. Dopo una grande stagione a Pesaro. Siete a te, ti faccio vedere la clip al volo e poi ragioniamo su quello che può essere il prossimo weekend, perché se l'Italia non vince almeno due partite, chiaramente è difficile che rientrerà nella fase finale. Vi sentirei anche Mazzanti. Eh vabbè, clip. E poi sentiamo Mazzanti, dai. E poi sentiamo Mazzanti. Beh, insomma, questa è la clip, chiaramente emozionale, ma emozioni insomma ci sono state poche dal punto di vista dei risultati. Queste sono le, perché sono state tre sconfitte, contro Turchia, Polonia e le campionesse degli Stati Uniti. Queste sono le 14 del secondo weekend in Corea, insomma altre gare importanti dove ci sarà la Russia, insomma, difficilissimo da affrontare, Maleon Cambi, Mingardi, Sene Nortolani, Guerra, Pietrini, Silla, Lucia Bosetti che entra al posto di De Gradi, Rossello Olivotto con Sara Farco, Marina Lubia e Bedrice Berti, Bedrice Parrocchiale, Ilaria Spirito, i due liberi. Allora Andrea, facciamo così, sentiamo Mazzanti, così ragioniamo su quello che ci dice, perché siamo veramente in chiusura. L'impressione è quella di sicuramente voler crescere ancora, di fare ancora esperienze in questa seconda tappa. Abbiamo la possibilità di giocare contro squadre che giocano pallavolo differenti e sarà sicuramente una tappa in cui vogliamo continuare il nostro percorso. Sono squadre molto rinnovate come noi, tranne forse la Corea che è quella che ha la formazione un po' tipo, visto che gioca in casa e quindi saranno secondo me le prime due partite particolari perché giochiamo contro due squadre che giocano una pallavolo più simile alla nostra e sono curioso di vedere poi contro la Corea, la squadre che giocano più in combinazione cosa riusciremo a mettere in cambio. Ma quello che stiamo mettendo a punto è alcune situazioni di cambio palla, del sistema dei quattro attacchi che non ha funzionato benissimo nella prima tappa e riuscire a ottenere qualcosa di più dal contrattacco, visto che abbiamo sprecato tanto nella prima tappa e abbiamo lavorato un po' in palestra e tanto a video per riuscire a individuare le situazioni che potevano essere migliorate. Però penso che dobbiamo essere concentrati sul gioco, poi i risultati che verranno saranno solo una conseguenza di questo e quindi pensiamo a giocare al meglio e poi vedremo alla fine di questa tappa quale sarà il bottino. Questo Davide Mazzanti, qui vedo una vignetta a Daniele Lauro, ha premiato anche e soprattutto te, un tuffo nell'azzurro. Vediamo però gli appuntamenti perché è simpatico Daniele Lauro. Italia-Russia, Italia-Germania, Corea del Sud Italia, due partite in diretta, Russia con Russia e con Germania per quanto riguarda la National League femminile, maschile dal 25, Germania-Italia, Italia-Brasile, Italia-Serbia. Io adesso lancio 20 secondi del tuo cartone animato, di una parola sul tuo cartone animato che sta andando su Rai Gulpe e bisogna guardare? Spike Team tutte le mattine su Rai Gulpe, lo stanno guardando tutte quante le ragazzine, giro nelle piazze, gioco con loro e tra giocavoli in sicurezza e... Eccolo qua, 20 secondi. Andrea ricorda quando va il cartone animato perché bisogna dare l'informazione, dai! Assolutamente, Rai Ragazzi ha dato l'opportunità tramite Rai Gulpe di farvelo vedere tutte le mattine alle ore 6.55, ma verrà rilanzato sui mondiali di pallavolo in contemporanea la grande pallavolo che Rai Sport riuscirà a dare. Uniremo Rai Sport a Rai Ragazzi, ragazzi! Allora, noi veramente siamo alla fine di questa stagione veramente vissuta, abbiamo avuto tantissimi protagonisti, i migliori del nostro campionato, sicuramente grande emozione con chi è passato di qua, le vignette di Daniele Lauro, il contributo grandissimo di Andrea Lucchetta, non solo sui campi ma anche in trasmissione, noi speriamo di darvi un prodotto lavorato ancora meglio rispetto a quello di quest'anno con tantissimi contributi in più, veramente ringrazio Andrea prima cosa, noi ci vedremo sui campi perché la stagione andrà avanti con la nazionale fino a quel fatidico 9 settembre dove l'Italia farà l'esordio col Giappone a Roma, fuori Italico, in diretta sulla Rai e quindi quello sarà un grandissimo appuntamento. Una buona estate a te Andrea, ma intanto ci vedremo sicuramente sui campi, ringrazio Fabio Grisafi per tutta la stagione della regia, Gianni Bencivenga come produttore esecutivo, io vi lascio ai saluti ai nostri montatori che hanno fatto un lavoro fantastico, i saluti, sigla e poi ci vediamo il prossimo anno per quanto riguarda Oltre la Rete, ciao! Oltre la Rete, a l'anno prossimo! Oltre la Rete! Oltre la Rete, oltre, oltre, oltre! Oltre la Rete! Oltre la Rete! Proprio dei simpaticori! Saluta! Ciao! Ci vediamo l'anno prossimo! Ciao! Abbiamo detto qualche abbraccio, qualche abbraccio... È finito! Ciao!